Bene, benvenuti, siamo alla scuola di Angera in seconda A, un gruppo di ragazzi e ragazze bellissimo, simpaticissimo. Iniziamo con Gioele, giusto, che adesso ci racconterà perché queste attività sono utili nella nostra classe. Perché ci fa riflettere su come ci dobbiamo comportare con i compagni. Ok, grazie. Poi passiamo a Marco. Perché ci fa conoscere meglio anche parti di noi che non riveliamo ai nostri più cari amici. Perfetto, molto interessante. Poi abbiamo, tu sei? Giorgio. Giorgio, raccontaci la tua visione. Allora, credo che ci può servire a farci capire che non bisogna giudicare dalle apparenze. E? E vabbè, ci ha fatto comunque capire anche che cosa serve a noi per stare meglio. Ok, bravissimo Giorgio. Poi abbiamo Camilla, adoratrice dei Maneskin. Rende la classe più unita e fa capire cosa c'è di sbagliato e cosa invece va valorizzato. Perfetto. E chiudiamo in bellezza con... Riccardo. Con il nostro Ricky. Che ci dice? È utile perché ci aiuta a risolvere qualche problema e conoscerci meglio. Ok, fate un applauso. La scuola che è in gelato.